La forza di un abbraccio. Domenica prossima la Chiesa propone di riflettere sul tema della vita, collegato quest'anno nel messaggio dei Vescovi a quello della libertà. Una candela per la vita è proprio l'invito rivolto ai fedeli da parte della Diocesi. A fianco invece l'appuntamento che si è svolto domenica scorsa, ovvero nella Cattedrale di Cristorelli, incontro ecumenico promosso dalle chiese cristiane presenti alla Spezia nell'ambito dell'annuale settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani, incontro che è stato trasmesso anche in diretta da Tele Liguria Sud. A centropagina Candelora e Vita Consacrata, martedì 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa ricorda in una giornata di preghiera alla vita religiosa delle persone consacrate. si celebra infatti la giornata mondiale della vita consacrata. A fianco gli aiuti per i migranti in Bosnia, l'iniziativa della Caritas per dare appunto un sostegno alle migliaia di persone che si trovano nei campi profughi allestiti lungo la cosiddetta rotta balcanica e che sono in condizioni davvero molto difficili. A fondopagina si è spento a Milano padre Carlini, il missionario nativo di Tivegna, aveva lasciato il Brasile nel giugno scorso dopo quasi 50 anni appunto di missione. Martedì i funerali in cattedrale alla Spezia. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.